Allora, allora, non funziona più l'audio? Allora, come procede qua il mio produttore? Bravo, bravo, bravo. Vuoi fare un disegno? Niente. Allora, ricordo che tutti coloro volessero farci fare un disegno. Possiamo venire qua e vi faccio il disegno. Però aspettate un attimo, prima dobbiamo finire con la modella, ok? Ho fatto un eccezione, dopo, dopo, dopo. Dopo, dopo. Dopo, dopo. Voi? 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 I will give you order and then you will see Our light changes, takes you where you wanna be I will give you order and then you will see I will give you order and you will see Now, the yellow and red, and red, and red and red and red and red Here we go vai 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 andrà dall'aiutante vai 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 Siamo in Firenze! 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 Siamo in Firenze!